Gravi incidenti in A14, subito dopo lo svincolo, pervene in direzione Bologna. Ferito, un motociclista caduto dalla propria moto. L'incidente si è verificato intorno a mezzogiorno. A dover far luce su quanto successo sarà la polizia stradale di Forlì. Da quanto raccontato da alcuni testimoni, la caduta sarebbe dovuta ad un urto con un'automobile. Il centauro è quindi rovinato a terra, ad alta velocità riportando gravi ferite e traumi. Immediata la richiesta di soccorso alla centrale operativa del 118. Il personale sanitario è arrivato in autostrada grazie alle limediche di Bologna. L'equipaggio, infatti, di Ravenna, era impegnato in un'altra emergenza. Il ferito, dopo le prime cure sul posto, è stato caricato a bordo dell'elicottero ed è stato trasportato al centro traumatologico dell'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. Per tutto il tempo dei soccorsi, tutte le corsie della careggiata nord dell'autostrada sono rimaste chiuse. Poi, lentamente, intorno alle 13, la viabilità è stata ripristinata. Nel frattempo si sono formate lunghe code. Sulla 14 la colonna dei mezzi ha superato i 7 chilometri. Diversi chilometri di coda anche sulla 14 bis.